Montecosero, Porta San Lorenzo, Palazzo Marinozzi, Museo Cinema a Pennello, un bozzetto di storia. Vediamo di che cosa si tratta. Il signor Paolo Marinozzi, lei è il direttore di tutto questo mediatico inferno talentuoso, pieno di suggestioni cinematografiche. Confermo e benissimo. La sua storia Marinozzi inizia nel 91-92 con Totò a Montecosero, ma molti anni prima ancora c'era un certo grande Fausto, Coppi, che lei, bambino, accompagnato dal suo padre a Civitanova, ebbe modo di vedere e di conoscere. Sì, è vero, anche questo è stato un caso della vita. Sono stato fortunato perché mio zio era che mi accompagnava quella volta, il fratello di mia madre, che era presidente del gruppo sportivo Fontespina, ciclistico. Da bambino avevo 5 anni, era il 1952, erano delle riunioni in pista che si facevano all'ippodromo, fra il Giro d'Italia e il Giro di Francia, l'anno d'oro di Coppi che finse Giro e Tour. E' stata un'emozione bellissima, anche se io da piccolo tifavo Bartali, perché i miei mi avevano contagiato, mio zio e mio padre, Bartaliani, e lui mi fece un fotografia sopra, un bel puffo, dicendomi non fa niente, c'è carino stesso, un bambino, non ha importanza per chi tifano. Ornella Muti, la grande Ornella Muti, nel cui nome, nel cui fascino, nel cui charme, si declinano diverse storie legate al centro del collezionismo di Monte Cosaro, e cioè lei, l'attrice, la star cinematografica, ma lei è anche la dama bianca. Sì, anche questo è un altro episodio importante, perché è stato casuale veramente. Avevamo invitato i figli di Fausto Coppi nel 1993 per una celebrazione del grande Fausto, e in quell'occasione viene invitato il Rai insieme al cugino di Fausto, il sindaco di Castellania, Piero Coppi, alla trasmissione Quelli del Giro, con Oliviero Bea, De Zanne e Vittorio Adorni. E con l'occasione c'era proprio Alberto Sironi, il regista del film, che stava preparando tutta la sceneggiatura e voleva andare addirittura a girare il film in Romania. Poi si è incuriosito del fatto che io portai il materiale della mostra che c'era stata in pochi giorni, il sindaco confermò che era stata una bella cosa, un'iniziativa fantastica, c'era la maglia di Fausto Coppi, il caschietto, tutto quanto, diciamo, che lo ricordava questo campionissimo, e lui ha sentito macerata. Ecco, qui è scattata la molla perché ho detto, ma io ho fatto il militare con un amico dalla zona di Belforte del Chienti, che ha come si ricordava questo lago, che lui da ciovane viene qua di tanto a trovarlo, ma è lontano, mi diceva di me, no, sarà pochi chilometri, allora io la domenica vengo giù, perché mi ha incuriosito questa zona, vengo a vedere la mostra, e poi io l'ho invoialo che dicendo se vieni qua, i posti ci sono da vedere un coro che vai in Romania per girare film, ti collaboro e così è andata, ha girato più di metà film qui, proprio Macerata, la provincia di Macerata, c'è da nuovo Monte Cosaro, l'ho accompagnato giù anche verso Ascoli a Rotella, Smirillo, per le scene di corsi, diciamo, ciclistiche proprio, quelle agonistiche. Ma ecco qui, da cui tutto è andato, Totò. Sì, è veramente, il partito qui era il dicembre del 92, era una data importante perché era l'anno in cui c'era la ricorrenza del 25esimo anniversario della morte di Totò, e allora volevo ricordarlo con una bella mostra, infatti intitolai proprio Totò a Monte Cosaro, e quello fu l'esordio a livello nazionale, invitai la lineana di Cortis, la figlia, e venne insieme a Matilda Morosi, che era una giornalista allora di gente. Trovaro, mi chiamò in Rai, una trasmissione, c'era anche lei, e parliamo di questa mostra, di questa iniziativa, e da lì poi sono sempre più conosciuto nell'ambito, diciamo, del giornalismo nazionale. Sotto abbiamo due grandi star, Abby Lane, la regina del Ciaciaccia, che da molti anni non veniva in Italia, ritornò con il suo marito, che non era Xavier Cugat, e in Italia la prima tappa fu a Monte Cosaro. Sì, anche qui è un'altra scommessa, perché era il 95, e mandai un fax a Vincenzo Mollica, allora non ci conoscevamo, dicendo che sarebbe venuto a Monte Cosaro, diciamo la regina del Ciaciaccia, e Billen, dopo circa 30 anni, 20 anni sicuramente, che non veniva più in Italia. Tanto è vero che lui mi rispose subito per telefono, mi chiamò, stavo in ufficio, e mi disse, ma dove sta innanzitutto questo paese? Era il periodo di un po' di scherzi a parte, dice, ma che è una cosa seria, oppure sicuramente è una cavolata. No, dico, guarda, questo perlomeno io non è che faccio tutto questo privatamente, ho una mia cucina che abita là, a San Diego, dico, vedi un po' di contattare allora, non c'era internet, non c'erano telefonini, non c'era niente. Lei ha perso diversi mesi dietro per la ricerca del recambio della signora Binet, infine ce l'ha fatta, ci siamo messi in contatto, dopo un anno è venuta qua, quindi Mollica aveva promesso che se sarebbe venuta avrebbe fatto il servizio in Rai, come lancio, infatti fatto proprio il lancio da Lily Gruber, è andato come prima notizia, è stata veramente una cosa importante per noi. Vennero tutti i grandi viati, comprese quelle di Repubblica, il Corriere della Sera. Poi Marisa Allasio, la splendida attrice lanciata da Poveri Ma Belli, anche lei ospite di Montecosi. Allora, Marisa Allasio l'anno successivo è stata veramente una doppietta fantastica, perché Bilei, Marisa Allasio, due personaggi nel mondo artistico che momentaneamente erano stati un po' accantonati, ritorno alla ribalta, lei lo stesso era anni e anni, che non andava più, anche se invitata da Rai, i media, non aveva più partecipato a nessuna trasmissione, venne qua, chiaramente io l'avevo informata di tutto quanto, avevo anche mandato referenze, eccetera, lei venne e fu anche questo un grosso successo, con Marisa Alluna e tu, e con riscontri lo stesso della stampa, televisioni, eccetera. E molto simpatiche, effervescenti come sulla scena, le gemelle Kessler. Sì, a tale proposito ho un riconoscimento, perché una riconoscenza, ecco, a Angelo Frontoni, che se ho avuto anche questa possibilità, lo devo a lui, perché lui, essendo di origine marchigiana, i miei genitori erano di Pieve Torina, grande fotografo, Frontoni, mise sempre la parola giusta, diciamo, benevola ai miei confronti, sia con l'Allasio che con le Kessler, infatti vennero nel 98, e fu un altro successo, con quelli belli come noi, tre giorni proprio spensierati, al ritmo del data UPA, che perversava qui per le vie del paese, con tanto di banda, e concerto musicale, che è stato veramente una, diciamo, una rimpatriata degli anni, anni 70, che ha coinvolto tutto il paese, e non solo, perché sono, di affinanti forse, è stata la manifestazione con più successo, perché erano le live più popolari, e anche grazie alla televisione. La notte piccola, anzi, troppo piccolina per noi, cantavano le sorelle Kessler, ed è, accanto a loro, la foto, della bersagliera, della nostra Lollo. Sì, era l'anno successivo, il 99, venne la Lollo Brigida, quella volta, sinceramente, non l'ho promossa io, l'iniziativa, però, fu determinante, diciamo, perché era la campagna elettorale, venne a fare la campagna elettorale, qui nelle Marche, questi disperati, perché non sapevano, diciamo, come accoglierla, non avevano risorse, diciamo, che potevano rappresentarla, a livello artistico, si ricordarono di me, e un paio di giorni prima, un giorno, mi ricordo, questa era una cosa velocissima, tant'è vero, che alla notte stessa, insieme a mio figlio e a qualche amico, abbiamo messo su questa mostra, è stata anche quella particolare, con tanto di Asinello, che l'amico Gianni Centioni, ci ha portato, e ha lasciato un ricordino, proprio qui, un souvenir, proprio al centro del passaggio, qui a Porta San Lorenzo, che è passata dalla storia, infatti, lei è soddisfattissima, è stata una bella soddisfazione, anche quella. Appena sotto, vediamo un cappellino, firmato da Sabrina Ferilli, in occasione della mostra, su Anna Magnani. Sì, Mamma Roma, è stata una delle ultime, nel 2001, è un omaggio alla grandissima Annarella, purtroppo non c'era più, e quindi ho pensato di invitare, la Sabrina Ferilli, che è venuta molto volentieri, abbiamo fatto una cartella magnifica, e qui ci siamo agganciati, con il discorso del cartellonismo cinematografico, perché è uno dei grandi pittori, poi ci arriveremo a questo discorso di cinema, Piero Armano Iaia, ha disegnato 12 tavole bellissime, della carriera artistica di Anna Magnani, abbinata un po' all'immagine, quella che dovrebbe essere, diciamo, la Magnani di oggi, con tutto rispetto, chiaramente i confronti non si possono fare, di Sabrina Ferilli, la Magnani, quindi ci siamo un po' avventurati in questo accostamento, ma lei è stata la prima a riminzionarlo, perché è improponibile, però ha fatto piacere la sua presenza ai giorni di oggi. E ci fu qualche anno fa, e arriviamo al penultimo evento, in cui lei, Paolo Marinozzi, stampò moneta falsa, fu in occasione della venuta di Catrice Pack, fu l'occasione delle lire 10.000. 10.000, quella volta sì, fu un piccolo tuto con la banda degli onesti, e mi sono ricordato in film, che è rimasto impresso, non soltanto a me, ma a gran parte di i miei coetani, il famoso film di Damiano Damiani, tratto dal romanzo di Alberto Moravia, La noia, con la scena meravigliosa del cartel, il banco note dei 10.000 lire, nesse proprio sopra il corpo, nudo della SPAC, che poi ci ha confidato, che non era nudo, chiaramente portavamo un bikini, ma allora la fantasia nostra era talmente tale, che già la spoglievamo con gli occhi. Dunque la SPAC sì, venne in occasione, la chiamiamo quelli della mia età, chiaramente era un richiamo all'adolescenza, perché è stata la prima ninfetta, la prima lolita, che ha smosso, diciamo, certi sentimenti, certe emozioni, la primissima fu Ebilei, chiaramente, ma quella più, diciamo, dell'adolescenza vera, è stata la SPAC, quindi fu presente, veramente partecipi a questa iniziativa, e insieme inventammo l'idea, che poi fu realizzata a teatro, di questa scena delle banconote da 10.000 lire, che piovero dall'alto, e lei rimasta veramente sorpresa, subito non se lo aspettava, è stato veramente uno spettacolo, uno spettacolo, questa pioggia di banconote, che ripeto, li chiamavano il famoso film di Damiano Damiani, tratto dal romanzo di Noravia, La Noia. Ed ora andiamo a visitare questo splendido museo, con bozzetti originali, e unici di grandi autori, erano i tempi in cui i film, soprattutto americani, venivano pubblicizzati con queste opere, vere e proprie opere d'arti. Adesso naturalmente si usano altri metodi, altre metodologie, e i grandi artisti penano un po' in questo settore, che era importante, anche perché suggeriva, e ci evocava, tutta una serie di mondi proibiti, quali il film e il cinema ci prometteva. Proprio così, infatti, questo mondo non c'è più, purtroppo è da circa trentina d'anni, quando non si disegna più, ma si è passati poi alla fotografia, infatti sia il regista che il produttore, hanno scelto questa strada nuova, poi è venuto il digitale, insomma, il computer, eccetera, quindi non c'è più, come dicevi giustamente tu, questo segno, questo quadro, vero e proprio, che ti faceva immaginare, già a prima vista, ti incantavi davanti al cartellone, e sognavi, vedevi già la trama, il racconto, i personaggi, interpreti, tutta la storia, e questo perché si sognava, ecco, era un periodo diverso, che stimolava la fantasia, cosa che oggi invece, il progresso ci ha portato ad avere tutto e subito, ecco, quindi foto, internet, però ci ha fatto perdere, questo aggancio, diciamo, a livello artistico, ecco, qui l'arte non c'è più. Con l'arte, ecco il doppio valore di questo museo, che conserva una documentazione unica, una storia che non ci sarà più, e soprattutto anche una storia artistica. Siamo al primo tempo, perché questo museo ha due tempi, con l'intervallo, come in qualsiasi sala cinematografica si rispetta, e con appunto questo cartello, ha tutti i nomi, una parte almeno, perché nella seconda parte ne veremo altri ancora, tutti i nomi degli autori, presenti in queste splendide sale. Esatto, il primo tempo riguardo, diciamo, artisti che hanno lavorato nel dopoguerra, quindi, fine anni 50, fino agli anni 70, al limite dell'80, ecco, in questa prima sala, ci sono esposti i quadri, bisogna chiamarli così, che sono veri e propri quadri, d'autore, il primo è appunto Renato Casaro, grande artista, che per sopravvivere, oggi viene rimpianto, ma allora dovete, diciamo, andare all'estero, perché non lavorava più, e quindi è andato in America, è stato in Germania, in Spagna, e ha sposato, è rimasto in Spagna, e si è stabilito là, è diventato un mito, perché ultimamente lui è l'unico che disegna, diciamo, cartelloni cinematografici, ma non tanto per film italiani, ma purtroppo per film stranieri, questa è una delle tante, diciamo, nostre debolezze, del made in Italy, che non sappiamo, o non vogliamo valorizzare, ecco. Poi Gasparri. Questo pittore mi sta particolarmente a cuore, in quanto, oltre ad essere un grande artista, diciamo, è marchigiano, l'unico pittore di cinema, nato nelle Marche, precisamente a Castelfidardo, ha sposato un'altra signora marchigiana, la dolcissima Violetta, e poi doppiamente legato, Rodolfo, al film, alla storia del cinema italiano, perché ha avuto come figlio, un attore, Franco Gasparri, che è stato, purtroppo, una meteora, in quanto ha avuto un incidente automobilistico, anzi, motociclistico, è rimasto paralizzato, è purtroppo morto giovanissimo, ha lasciato, diciamo, dei lavori nel cinema con la serie Marche, il poliziotto, per esempio, famosa, diretta anche dal nostro civitanomese, Stelvio Massi, regista, e soprattutto, però, famoso, magari, per, diciamo, le sue fan femminili, nei suoi fotoromanzi, che sono, ormai, una leggenda, diciamo, Gasparri, conosciutissimo, dalle ragazze, degli anni 70-80, ecco. Signora, che cosa le ricorda, e chi le ricorda, queste, questi bozzetti, queste belle opere? Io sono la cognata di Rodolfo Gasparri, questo cartellonista che espone qui, vede. Gasparri di Castelfidardo? Sì, è di Castelfidardo. Le posso dire che sono venuta qui perché mia sorella me l'ha detto che c'era questo museo, e allora sono rimasta veramente sballordita nel vedere come ha fatto questo museo il signor Paolo, ha fatto una cosa meravigliosa, non solo di mio cognato, ma di tutti questi cartellonisti che ha messo insieme. Per me è una cosa unica nel suo genere, io non ho mai visto una cosa del genere. Cosa ricorda, cosa ricorda di Rodolfo? Di Rodolfo le posso dire che era veramente un grande artista, una persona differente. Per me è stato come posso dire fuori dalla norma perché veramente si vedeva che era differente dagli altri per come si esprimeva, per come esprimeva la sua arte. Qui abbiamo, c'era una volta all'Oeste con la grande Claudia Cardinale che è venuta qui a inaugurare proprio il museo. Bellissimo questo, guardi. I quattro dell'Ave Maria. I quattro dell'Ave Maria, bellissimo. E questo invece? Una squillo per l'ispettore Clute ed è una bellissima interpretazione da parte di Rodolfo Gaspari con un'immagine con un'immagine moderna rispetto all'iconografia classica che lui ha usato per gli altri due grandi film. Rodolfo era particolarmente bravo per i colori, riusciva a mettere dei colori stupendi, vedi? Come... E lì abbiamo una vita difficile con Alberto Sordi e Giancarlo Giannini. Giancarlo Giannini, bellissimo, metallurgico, no? Ferito nell'onore. Una bellissima Claudia Cardinale giovanissima e Paolo Aguri. Che cosa le ricorda? Questa è una dedica, è stato il primo incontro con la Cardinale avvenuto sei anni fa. Un caso è stato al Teatro di Sant'Eppido a Mare e l'ho saputo la sera prima che c'era questa prova generale della dramma del grande scrittore americano Tennessee Williams lo zoo di vetro e quindi andai quella sera c'erano giornalisti pochi invitati ripeto era una prova che iniziava la settimana successiva una tournée in Italia era il 2005 e la conobbi portai un po' del mio materiale e mi promesse che realizzavo questo sogno del museo allora c'erano i primi segni di questa idea di questo progetto e ne parlai e lei mi promesse se me lo dirai in tempo nel limite possibile degli impegni verrò e è stata di parola e la dedica Paolo Aguri è stata proprio benaugurante. Ed è venuta con la valigia perché lei è la ragazza con la valigia il film di Valerio Zurlini nel 1962 ed è stata qui tre giorni proveniente da Parigi per il fine settimana dal 24 dal 23 al 25 giugno è arrivata con l'aereo noi siamo andati a prendere l'aeroporto di Ancona una donna semplicissima veramente normale non è una diva questo ci ha veramente fatto piacere e anche sorprese perché lei è una grandissima attrice ma quando entra nel set diciamo quando recita ma fuori non recita ecco per questa è una donna veramente straordinaria in quanto anzi lei poi l'hai vista anche tu con i tuoi occhi come si è comportata la sera al ristorante cantato ha ballato ha scherzato una donna veramente fantastica di una umiltà che ha fatto molto molto piacere anche lei è rimasta qui amica di famiglia già ci siamo sentiti due o tre volte lei personalmente ha telefonato a mia moglie per ringraziarla soprattutto del ventaglio che le ha regalato in quanto quel giorno tutte quelle persone quella gente i visitatori sono venuti alla mostra era veramente un po' accaldata quindi l'ha salvata diciamo questo refrigerio e lei ha ricordato anche le ha ricordato anche i vecchi tempi del gatto pardo quando lei scherzava con questo ventaglio e ha ripetuto questa scena un po' provocante è stata una bella una bella cosa è stata una bella è stata una bella è stata una bella